Esplorazione di Kitesh Sono nel centro della città perduta di Kitesh Mi piacerebbe avere il tempo di esplorarla Ma la trinità è quasi riuscita a entrare La sorgente divina si trova in cima alla torre più alta Sarà una lunga scalata e se fallissi tutto sarà stato inutile Devo sbrigarmi La città è ghiacciata attraversa la prima porta Non so se cosa ho aspettato un morto di essere come Ma Jacob sembrava così... ...man Le cose che deve aver visto durante i anni Tutto l'esperienza e la città È difficile a fattere E ancora Lì ha scontato a loro persone per generazioni Alla per il motivo di questo segreto Che meravigliere sarà inutile con la Succa Divina? O che i uomini finalmente comprendono la vera natura del sole? O che si inutile un'esplorazione di nuova scontata? Un'altra cosa è sicuramente È molto importante permettere la trinità di controllare Secondo me finisce male Lara Non c'è proprio davvero più niente da prendere Più niente Sono queste le esecuzioni ma Oh Non lo so Lara Non so che dirti Cioè se ci fosse la possibilità di diventare immortale Io lo farei Non stiamo qua a prenderci in giro con l'eterna cosa Di oh vivere per sempre Oh è brutto Cioè quando hai l'eternità a disposizione Tipo Hai tutto a disposizione Però una di quelle cose è da non condividere con l'umanità Perché l'umanità immortale sarebbe di quel cancro Io non li vedo ma se mi dici che ci sono Vado in modalità furtiva Io per poco la furtività non me la giocavo malamente Se quella è la prima porta ci sono quasi Quatta quatta E terra re Trabucchi Ma così Mi aprono il percorso Ce lo so che stanno cercando di ammazzarmi Infatti Raggiungi il trabucco Oh vabbè questo è uscito Da Non lo so Highlander Al momento meno adatto per raccogliere reperti Ma io lo faccio lo stesso No Quanto pare il gioco non vuole C'è tutta questa è una pietra focaia Acciarino Acciarino Ando mai nella vita Oh vabbè Quello col trabucco ha una mira micidiale Ho perso un po' il senso della direzione Ho perso anche qualche fps Ok Più mi avvicino più in teoria lui dovrebbe avere difficoltà a mirare In prossimità Qua mi lanciano molotov primordiali Sono un po' a corto di munizioni Si vabbè smettetela Piromani E che caspita qua c'è fuoco ovunque Dimmi che qua non mi possono abbrustolire Ora vengo a farvi il culo a tutti i guanti Se gli fps non lo permetto Questo si chiama Shotgun Nel tempo dei bizantini non c'era Ma è una cosa un po' allegra E simpatica Questo c'ha la spada Anzi le spade Sposta per prendere la mira Wow Ok quindi questa specie di barra Sulla sinistra Indica Cioè fa più o meno da mirino devo supporre Ora dove si trova La porta è No c'è Quindi se questo è davvero il mirino così va bene Bellissima sta cosa Wow Anche Lara si è sentita gasata Cioè si è capito dal tono di voce Ma quanti archeologhi possono vantarsi di aver fatto fuoco con un trabucchetto millenario Trabucco Trabucchetto Trabucco millenario Mi è venuto fuori trabucchetto perché in inglese è trebuche Cioè forse gli inglesi utilizzano il termine francese addirittura perché trebuche Non mi sembra inglese Cioè comunque qualcosa di particolare nell'atmosfera Piazza della cittadella Piazza della cittadella Quindi questo è il cuore di Kitesh Quindi questo è il cuore di Kitesh C'è perforanti Sparvi via l'imboscata Oh questa non è un'imboscata Questa è pioggia di fuoco Quando caricate che diceva sulle frecce Vabbè questo Non gliene frega un caspita di niente del dolore Risco che sei mortale Sei anche insensibile Metragliatore con firme The best weapon Porca miseria Aia Danni collaterali Tornatene su Dark Souls Finito pure le frecce Ma crolla tutto Fatemi Vostri materiali Le vostre munizioni No 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 Oh caspita Fate pure sti zombie sovraumani Ah non credo mi avrebbe preso là sotto Beh effettivamente Quella laparda medievale Guarda come incassa bene i colpi Vedete dicono Cioè sentite Dicono trebuchet E non so se è davvero il loro modo di dirlo in inglese O se è preso in prestito come termine francese Perché trebuchet sembra davvero francese You don't have much time Lara You must reach the source before them If there's nothing more you can do Get somewhere safe Not a chance You need us as much as we need you We survive together or we die alone Now go Survive together or we die alone Ah questa è una scorciatoia Però io Dove andare al trabucco Ah ok ecco a che serve sto cosa Infatti lo guardavo Ho detto ma io mi ricordo di sto cosa No Forse posso aggrapparmi e poi spingerlo Così dovrebbe bastare Agile come una gatta Lara La porta che devo aprire è verso questa direzione no Eccola Ok così dovrebbe andare bene No non va affatto bene Da qui non posso impugnare Seccatura è che adesso l'ho roteato Quindi da qui non posso Appianciare Ah Ah Vediamo c'è qualche aggecino Può venire in soccorso alla mia fragilità di donna Fragilità di donna Probabilmente Lara è 10.000 volte più forte di me Però in media normalmente le donne hanno una massa muscolare Più piccola meno sviluppata rispetto agli uomini Sì Sì là c'è qualcosa ma che cosa posso farci io Forse 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 Aspetta Aspetta Ecco qua Questa cosa non l'avranno messo a caso Adesso se io faccio girare Tutto il discorsone Questo dovrebbe venire via Ottimo Piccoli geni ingegneri crescono Aia Troppo corto Però la direzione è giusta Questa non l'avranno Tutta sudata Lara in faccia Tutta sudata Lara in faccia Oh trema tutto Non ci capisco niente Con queste frecce perforanti Forse le devo fabbricare Capito male Mia graziosissima funambola Graziosissima Graziosissima E aggraziatissima Grazie a tutti Beccate sto controattacco Forse è il primo che faccio Perché Di solito non mi viene da schivare Quando sono in melee Spacca il ghiaccio Per rompere No che ricopre l'ingranaggio E spara con il trabucco Non mi viene da schivare Non mi viene da schivare Sì guarda qua Le torri da assedio Siamo proprio sotto Questa montagna Qual è il problema con questo trabucco Questo è inutilizzabile Forse no E' un problema con questo Non mi viene da schivare Non mi viene da schivare Di come mi li però La scuola di Katesh ha dovuto perdere i giorni. Come rompe il ghiaccio Con questo coso Sa tanto Dissi però E' un po' troppo in basso No? Credo di si Un po' più in alto Infatti c'avevo C'avevo visto giusto Mi serve qualche cosa per Sollevare Deve essere lì Che devo far alzare un po' quel lato Guarda qui non può Appendersi di nuovo vero Devo fare il giro Così è ancora più in basso Il mio peso non basta No Non sei abbastanza cicciottella Lara Però 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 Ho appena notato Vediamo Ah Dimmi che puoi saltarci già da qua Ti supplico Ah Devo risalire lassù No scusami Allora Ah Devo essere io Ah Devo spingere il coso Ah Ah Forse devo riempirlo d'acqua Oh 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 Che caspita pure Oh Guarda un po' Oh Oh Finalmente Questa è un po' Questa è un po' La versione rivista E più elaborata Di tombi Con quel sali e scendi Con le altalene Io sono morta No ok Le altalene d'acqua Al Il villaggio Il villaggio di tutti gli esordi F P S Ora Non mi dite che è troppo in alto Perché mi incazzo Non ci credo Non ci credo Ora Ditemi Che così va bene Oh Sì Che soddisfazione Guarda tu però Sei cosciente Del fatto che Stiamo anche aiutando La trinità Così Che per ora Non si è ancora Fatta vedere Comunque Con il trabucco Cattivissima Troppo corto Mi sembrava giusta Come la distanza Uh Pentakill Sto sentendo Veramente Cattiva Ok Sto sentendo Sto sentendo Però ti ripeto Lara La via è libera Anche per la trinità Prima o poi Salterà fuori Ami Prima Anche per la trinità Obs Fuori Oramai i materiali Più per le munizioni Che per altro Oh ste frecce perforanti Non mi dicono niente Sembra non fare proprio niente E' imprecisione Vabbè colpa anche degli fps Posso evitare di combattervi E andare per la mia via No Ara corri So che non c'è fuori per correre ma corri Ecco adesso contro attacco BAM sul ginocchio No no via da quella giara Via Che Aspita trovo sempre il modo di beccarmi Pure da dietro le coperture Vabbè su giù facciamo questa strana danza Ho dovevo ricaricare Pessima Pessima Lara Caspita Oddio Wow Mi è quasi piaciuto morire in quella maniera Sì avvicinati avvicinati Pausa di riflessione tutti quanti Oh Adesso mi arrivi pure alle spalle Facciamo a gara chi si schiva Guarda Guarda ci sembriamo due ebedi Scontro singolare Torre dove? Quale Lì? Guarda unico C'è la faccia ad arrivarci Spero di sì E addirittura Lara sei sempre una piacevole sorpresa Colana fatta di ambra del Baltico Un po' stretta come collana non ti pare? Ah no forse è solo una mia impressione C'è però sì cade stretta proprio intorno al collo Non scende diciamo giù Guarda qui senza morire Ok Sentono grida in sottofondo Credo i mortali stiano combattendo contro la Trinità No che ho fatto? Ah ho capito dovevo essere vicino al bordo No 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 Ammazzate la statua ma non ammazzate me Stai Sì, sì, sì. Da lì poi però dove proseguo? Credo che ci penserò sul momento perché comunque le frecce queste qua larghe le posso piantare anche da qui. Ah, ok. Forse ce la fa, però mi sento più al sicuro, ecco, trovandomi più in alto. Sto durando molto questa sessione di scalata. Ma dai! Proprio l'impressione che a volte i comandi facciano i capricci perché... Cioè, ho saltato, ho premuto E... Non lo so. Vediamo se c'è qualcosa da aggiungere sul diario. Tre punti abilità. Prendiamo le esecuzioni, ma... Sti cazzi. No, dove caspita? Le esecuzioni in caccia? No, no, no! Vabbè, io oramai non mi scandalizzo neanche. Oramai sono abituato a tutto questo, Lara, dovresti esserlo anche tu. È pane quotidiano per noi. E questo che cazzo ci fa qua? Come ragno, che sta andando a fare? Ma che è? Guarda, li sembrano dei scarafaggi, ma che caspita? Allora, lo sai che tutto ciò finirà molto male? Divina provvidenza. No, divina provvidenza è finita. Cevareva. Forse se riesco a sfruttare... La confusione... Forse se riesco a non morire. Prima ancora sarebbe... Auspicabile. Se riesco a sfruttare la confusione... Di immortali etnità che combattono... Posso arrivare... A morte? No, 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 no. Posso arrivare alla sorgente divina prima di tutti. Mi sento... Con la vita appesa a un filo. Oh, no, 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 no. Non posso provare neanche. Parta un po' questo. Parta un po' questo. La torsione divina... La torsione divina... Si avvicinati. Si avvicinati... Dalle nube. E mi erano mancate le vostre granate. E a voi erano mancate le mie. E a voi erano mancate le mie. Oh, flanking position. Via, via flanking. Via flanking position. No, no, volevo usare... Ok, raccogli. Via. Fuga per la vittoria. Fuga per la vita. Baccatevi questo. Mi sono suicidata. Fantastico. Ho sbagliato tutto. Non mi sono dimenticato di te. Sto cercando di procrastinare l'inevitabile. Cioè, quando tu mi metterai all'angolo. Ok, ora siamo yette. Facciamo questa danza dell'accoppiamento. Ah no, non siamo ancora yette. Mabbà, queste granate. Ora. Caspita ancora. Ok, ora siamo yette. Vediamo. Mamma. L'arte del contrattacco. Oh. C'è rimasto male. C'è rimasto male. C'è rimasto malissimo. Oh, che ca... Via. Vorrei raccattare un po' di munizioni. Che spesso sono davvero troppo a corto. Mi è diventato una statua. Oh. But then I took an arrow to the knee. Oh, caspita. Cioè, capisco che con la vostra pioggia di meteore mi state aiutando, però... Ma ho più paura di niente, oramai procedo spedito. Ok, forse non più tanto spedito. Voi e le vostre caspita di granate. Stessa storia con te. Schivata. Dicevamo. You and me now. You and me now. Schivata. No. Ho fatto schifo di nuovo. Schivata. Schivata. Troppo presto. Ok, sto facendo schifo. Che mi mette ansia sapere che ci sono quegli altri là dietro. Ottimo. No. Tira fuori la testolina. Oh, shit. Altri. Io ho la granata. Thank you, Sofia. Hell of a shot. Hell of a shot. Hell of a shot. Che poi non ci sono. Non ci sono campi base. Ho superato questo luogo. Il viaggio rapido. Cioè, insomma, ragazzi. Ci siamo. Siamo alla fine del gioco. Strapiombo finale. Ascoltiamo le ultime riflessioni di Lara Non ci sono? Non ha qualche ultimo commento? Niente mi sa che abbiamo fatto tutto il possibile Per potenziamenti e altro Fino ad ora Mi dispiace per la pistola pesante Ma pazienza A questo punto tanto vale prendere tutto A caso Come vestito direi che questo si merita Di essere presente Nei momenti finali Quindi noi ci fermiamo qui per un attimo Nel prossimo video ci sarà probabilmente L'epilogo di questa avventura